Nasce una nuova struttura che ospiterà i cani per poco tempo in attesa di trovare una famiglia dove sarà promossa e diffusa l'attenzione per la questione dei diritti degli animali. Questo un passo verso la libertà per i nostri amici a quattro zampe l'ho sottolineato Maria Luisa Gentile, referente locale della Ollus Animalisti Italiani.